buongiorno buongiorno a tutti benvenuti all'appuntamento la rassegna stampa di fano tv allora oggi è lunedì 15 intanto mi scuso per la voce ma purtroppo anch'io vittima di questo maltempo che col caldo il freddo gioca tutti scherzi come un po a tanti di voi immagino allora poche parole per dirvi che questa mattina c'è il tempo anzi no il santo il santo di oggi il santo perché è un santo importante oggi è il santo patrono degli agricoltori si chiama Sant'Isidore del 1080 è il patrono della città di Madrid in Spagna e ha una bellissima storia dietro ed è patrono come dicevo di tutti gli agricoltori il sole è sorto alle 5.43 tramonterà le 20.26 il tempo per oggi lunedì eccolo qui lo vedete con la grafica del trebimeteo.it purtroppo il tempo continua a essere perturbato io non so come mai bisognerebbe rivedere un po la storia del meteo dell'anno scorso non mi ricordo un maggio così brutto così indecente dal punto di vista appunto della pioggia del vento e soprattutto e comunque questo è il tempo per oggi su tutta la regione Marche vedete questo è il pomeriggio poi la sera e domani martedì martedì che torna ad essere soleggiato anche se con qualche residuo nuvoloso mercoledì invece tempo bello per tutta la giornata allora cominciamo adesso andiamo a vedere i giornali il resto del carino il Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro e Urbino ha destato molta impressione la notizia di quell'albergatore fanese di 60 anni che è caduto dal quarto piano del suo albergo un albergo chiuso ma fa impressione fa riflettere quella porta quella finestra aperta e quel corpo riverso a terra Roberto Cecconi questo il nome del ristoratore in questo momento si trova in un letto d'ospedale a Torretti di Anconi in coma farmacologico tutta la città prega per per lui lo ha ha chiesto preghiere anche il sacerdote il parroco della chiesa di San Giuseppe al Porto padre Gianfranco Casagrande che ha rivolto un pensiero affettuoso appunto a Roberto il titolo volo dalla finestra la città prega per Cecconi è gravissimo l'imprenditore lanciatosi dall'hotel Grace gli amici dicono in coro Roberto non mollare restano dunque gravi le condizioni di questo 58enne principitato sabato mattina dal quinto piano dell'hotel Grace sul tetto del ristorante da Cecconi chiuso ormai da diversi mesi per tutta la giornata di ieri le condizioni cliniche dell'ex albergatore e ristoratore sono state definite dai medici estremamente critiche sempre sul giornale di questa mattina la notizia che già si è diffusa ieri attraverso la rete della morte del presidente della proloco di San Costanzo Andrea Triani che si è spento un'altra notte a 74 anni dopo una lunga malattia volontario dell'associazione da tantissimi anni ne ricopriva la massima carica dal 2011 e grazie alla sua guida la decana delle proloco della provincia ha ulteriormente rafforzato le proprie attività di promozione turistica e del territorio il Corriere a partecipato la pagina di Fano soffocati da costi e abusivismo perciò tanti alberghi chiudo ecco la finestra che vi dicevo questa finestra spalancata l'unica le altre tutte chiuse dell'hotel Grace che è chiuso da una decina d'anni e parla luciano cecchini che il presidente degli albergatori consorziati occorrono progetti dice cecchini e progetti e tempistiche il turismo è il volano dell'economia e la sua denuncia la denuncia del presidente della categoria dopo il dramma all'ex hotel Grace e lui dice o meglio al sindaco non risulta che l'imprenditore che cecconi volesse ricavare appartamenti anche perché ci vogliono anni e qui di nuovo si torna a puntare il dito sul peso della burocrazia la burocrazia ha un peso dal momento che tra permessi e autorizzazioni a volte gli imprenditori non riescono ad estreggiarsi se si aggiungono poi i costi delle utenze ma soprattutto le tasse si capisce come la misura sia ormai colma però qui in italia ci si preoccupa solo del calcio se il calcio se 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 va male quello è un disastro e ci occupiamo e preoccupiamo solo per questo va bene mio padre roberto invece dice una delle figlie non ha tentato il suicidio la famiglia nega i problemi economici il ristorante chiuso per ragioni economiche scusate per ragioni di salute a far credere ai parenti che non ci fosse l'intenzione di farla finita è stata la totale assenza di bigliettini o messaggi anche telefonici di addio o di giustificazione del gesto secondo la famiglia roberto cicconi potrebbe essersi sporto un po troppo dalla finestra o magari poi un capogiro dicevamo oggi è sant'isidoro il patrono degli agricoltori e magari ci ha messo una mano lui alla cooperativa falcineto perché la notizia sempre dalla pagina di fano è questa siamo sul Corriere Adriatico arriva la nota marca di pasta italiana la barilla che ha deciso di comprare 300 ettari di raccolto 300 ettari di grano dalla cooperativa falcineto voi sapete che purtroppo gli agricoltori che decidono di pagare di coltivare il grano insomma non se la passano per niente bene loro dicono ormai dobbiamo vendere a sottocosto il prezzo è calato in modo insostenibile addirittura il grano è arrivato persino a 17 euro cioè una roba che al quintale una cosa che non sta né in cielo né in terra però però questa è la situazione allora la buona notizia è che la barilla acquisterà appunto le produzioni del grano da 300 ettari è un poca cosa anche perché comunque sono 700 gli ettari ce n'è ancora ce n'è ancora un bel po questa è la notizia sulla pagina di fano il grande produttore compra la produzione ma ce ne sono altri 400 torniamo sul carlino ancora crisi piccole imprese strage annunciata la cna punta il dito contro la politica per anni gli amministratori si sono occupati solo di grandi industrie e bordoni dice il nostro confidi ha salvato più di mille aziende non lasceremo nessuno solo è il gruppo della cna il completo l'associazione più rappresentativa della provincia di peso urbino con oltre 5 mila associati tra artigiani piccoli e medi imprenditori durante l'assemblea si è parlato anche del futuro delle camere di commercio drudi ha criticato la riforma ceriscioli ha rilanciato l'ipotesi invece di un solo ente fiorenzuola sul san bartolo ieri sono sono apparse le fiamme due interventi dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio gli incendi forse le fiamme sono di origine dolosa l'arrivo della stagione calda mette impellente rende impellente l'aumento dei controlli paura ieri pomeriggio sul collo del san bartolo per un incendio scoppiato in fondo alla falesia ridosso della spiaggetta sotto fiorenzuola di focara a pesaro invece ci sono una cinquantina di famiglie che sono un po indietro con le rette dell'autobus le mense dell'asilo lo scuolabus insomma sono un po così e adesso è partita questa caccia brutta questo termine caccia ai genitori morosi insomma non credo che siano contenti di essere morosi queste persone però magari qualcuno ci marcia pure però caccia ai genitori morosi degli asili il comune richiede 350 mila euro dal 2007 i mancati pagamenti coinvolte anche le scuole elementari e le scuole medie 50 famiglie tanti sarebbero i nuclei con nuclei familiari colpevoli di non aver pagato le quote alle scuole la pagina di urbino del corriere adriatico si vendono i beni e i lavori non vengono realizzati atto di accusa di maria francesca crespini della lista civica cut liberi tutti che dice opere rimandate da un anno all'altro valcesano gli eventi sono raddoppiati da mondolfo l'estate da due vacanze in una oltre 130 manifestazioni tra mondolfo e marotta per bambini ragazzi e adulti l'ultima pagina è quella di senigallia il blocco anti smog non va in ferie protestano i turisti scelta assurda lavori in via po per la rimozione di alcuni alberi giornate da bollino rosso nella zona dell'ospedale poi sotto la fotografia di questo furgone dei panini distrutto l'altra notte al ciarnin da un incendio divampato per causa accidentali era un po il punto di riferimento del popolo della notte della movida i proprietari erano erano dentro questa è la rassegna stampa noi ci fermiamo qui vi ricordo che questa sera alle 20 e 30 c'è il telegiornale occhio alla notizia c'è il sito internet occhianotizia.it per tutti gli aggiornamenti e il numero di telefono per le vostre segnalazioni io vi auguro una buona giornata e ci vediamo stasera Grazie a tutti